Musica Siamo una compagnia di musicisti che sta viaggiando, viaggerà quattro mesi nel Piemonte del Sud, quindi in provincia di Cuneo e di Torino. Musica Buonasera a tutti, questa è la carovana Bala Caval, la prima sera del nostro viaggio. Mi dicono di dire che ci sono veramente i cavalli, sono qua dietro. Siamo sul Mayra! Musica 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 Quindi disperta un bollito. dietro un grande ballo c'è sempre una grande cavalla Siamo davvero contenti perché abbiamo avuto un'accoglienza magnifica, perfettamente nello spirito che cercavamo, quindi grazie Una compagnia, Balla Cavalla, come avete potuto vedere si muovono con dei carri, con dei cavalli come si dice adesso, dicono quelli importanti, in modo slow, molto lento Con i carri, con i cavalli si va un po' più lenti, è vero, però c'è la possibilità di incontrare un sacco di gente e anche di vedere meglio il paesaggio E dire che io prestasera volevo rimanere a casa a guardare la televisione e io ci ho fatto benissimo a venire a cercare l'era in quel piaccia Come si chiama Allegra Vecchietina? Claudette Ecco, Claudette, un bel applauso per Claudette Qua chi vuole fare coppia con chi? Questo è il problema That is the question Un elefante indiano con tutto il baldadino L'avevo nel carino e l'avrei dato a te Ma infatti erano i carri, un elefante e tu dovevi dare un gatto a me E' aperto! Forza, tutti a ballare! E' aperto! Grazie a tutti